I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno scoperto nel capoluogo etneo due opifici e un deposito di merce contraffatte, denunciata all'autorità giudiziaria, due uomini senegalesi e una donna italiana. Nel corso di un primo intervento, i militari del gruppo di Catania hanno effettuato l'ispezione di un locale terraneo nel quartiere San Cristoforo, illegalmente allacciato alla rete elettrica pubblica e nella disponibilità di un cittadino senegalese, scoprendo l'esistenza di un opificio clandestino al cui interno vi erano 117.000 materie prime e prodotti semilavorati, capi firmati e accessori di abbigliamento contraffatti, i macchinari utilizzati per la produzione, assemblaggio e confezionamento, nonché 51 cliché, ossia gli stampi metallici utilizzati per riprodurre i vari marchi su tessuto e cuoio. La fabbrica illegale, sottoposta a sequestro, distribuiva i prodotti contraffatti tramite corriere, i finanzieri hanno infatti trovato numerose buste, tra le quali alcune già utilizzate, riportavano in maniera ricorrente un indirizzo di consegna relativo alla zona adecente via Plebiscito. A seguito della perquisizione sia dell'appartamento del senegalese che presso l'abitazione indicata quale indirizzo di consegna delle merci, è stato individuato un altro opificio clandestino, gestito da una donna catanese e dal marito senegalese, dove venivano sottoposti a sequestro ulteriori capi di abbigliamento contraffatti, finiti e semilavorati, e di macchinari professionali utilizzati per la cucitura delle fibbie ed etichette. L'operazione si è conclusa con il sequestro di quest'altro opificio, di oltre 180.000 prodotti contraffatti, otto macchinari usati per la produzione delle merci e la denuncia a piede libero alla locale autorità giudiziaria dei due cittadini senegalesi e della donna italiana per il reato di concorso nella produzione e dimissione nel mercato di prodotti contraffatti. La stima del valore delle merci illegali sequestrate ammonta ad oltre 2 milioni di euro.